allo a tutti raga benvenuti nel mio nuovo video sono il vostro lele colli allora non l'avete mai visto youtuber fare video in bici allora video di oggi voglio solo dire video breve ovviamente voglio solo dirvi che faccio questo video ovviamente per dire che io i 55 marzo sarà ufficialmente avarese sarò avarese per il film a copie di gali se avete capito bene gali che chi è i gali cantante tutti lo conoscono perciò voglio solo dire che io 5 marzo sarò a va 3 per il film di gali che di varese e chi viene a varese per il film a copie di gali ci sarò anche io e chi vuole fare una foto con me che ci sta facciamo una foto a parte che io vengo solo per fare una foto con gali che una volta che ho fatto la foto con lui me ne posso anche andare tranquillamente però quanto chiacchiere con i fan non fa mai male giustamente però che ci sta però ok gali è un grande cantante guarda vi posso dire che cosa ti trovo gali l'ho perso quando ero andato a milano purtroppo l'ho perso l'ho capito che era troppo tardi ho capito che era troppo tardi e niente niente perché sta facendo il giro tour d'italia prima coppia la musica perché l'otto maggio la milano ovviamente concerto e quindi verso gale a milano facendo il tour d'italia varese è l'ultimo città che andrà a fare la firma coppia e allora allora ditemi voi se quello non è un'occasione per cantare ci anche io forse farò anche un video blog forse con gali non si sa mai però devo pensarci comunque è un grande cantante galli è uno che spacca la musica quindi lo conosco da bella italia fatto al primo come dire prima musica primo disco bell'italia lo conosco da lì perciò chi sta dai l'ho perso comunque a milano l'ho perso è iniziato il tour di prima coppia ovviamente a torino a torino e io non lo sapevo non lo sapevo perché il primo è iniziato a torino poi a milano e sta facendo il tour l'italia dappertutto dappertutto e io scemo me lo sono perso sia in torino e milano porca puttana ma va bene va bene va bene tanto il 5 marzo sarà a varese e io ci sarò non mancherò ovviamente non mancherò e sarà l'ultima occasione per beccarlo e fare una foto con lui e forse farò anche un video blog di me a varese ci devo pensare però di sicuro la foto con lui lo farò di sicuro sicuramente anche se farò un enorme fatica perché essendo famoso io avrò anche i fans che mi tolleranno e mi storcheranno e mi strano addosso va bene due famosi in uno un cantante e uno youtuber perfetto in conclusione raga il 5 marzo nelle colli che sono io sarà a varese per firma copie di gali e non mancherò e fidatevi che io ci sarò o se l'ultima cosa che faccio in vita mia ci sarò anche io a varese per firma copie di gali l'ho perso qua nella mia città di torino a milano varese non mi scappa va bene il video è finito qua lasciate tanti like tanti mi piace in questo video mi raccomando link in descrizione di tutti i miei social nell'info box qua sotto quindi seguitemi su tutti i miei social qua sotto va bene va bene ok ok iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e noi come sempre ci rivediamo un prossimo video e vi auguro un buon proseguimento